Lunedì consiglio comunale importante a Francavila Fontana sulla questione della delibera sulle farmacie nel quartiere San Lorenzo. La posizione di Eubrepo Curto e di Progetto per l'Italia? Io riconfermo la posizione che è stata già espressa da me attraverso gli organi di informazione e cioè che si tratta di un intervento a gamba tesa da parte dell'amministrazione comunale nel momento in cui si debbano pronunciare due tipi di giudici, quello amministrativo e quello penale da un lato sul ricorso che è stato presentato rispetto alla vecchia deliberazione dall'altro per la nota inchiesta che ha coinvolto gran parte della vecchia amministrazione comunale di Francavila. Buonsenso avrebbe voluto che questa amministrazione avesse atteso innanzitutto il pronunciamento dei due organismi per poi evidentemente assumere una posizione a riguardo tenuto presente che forse il sindaco Maurizio Bruno non sa, non conosce quali sono le sue competenze che sono assolutamente enormi anche rispetto al piano di localizzazione delle farmacie. Qui è successo questo, cioè che l'amministrazione comunale di Francavila ha di fatto riaperto un procedimento amministrativo che invece era scandito da una tempistica ben precisa. Vole a dire che nel 2012 vi era un termine entro il quale le amministrazioni dovevano indicare le sedi per allocazione delle nuove farmacie, questo è stato fatto, c'è un giudizio amministrativo in corso per verificare la legittimità di quella scelta, c'è un procedimento penale in corso come tutti sappiamo. Non è possibile, a mio avviso, ma anche ad avviso della Regione Puglia, ma anche ad avviso dell'ASL riaprire quei termini modificando una decisione che era stata tempestivamente per quanto discutibilmente assunta. La Regione Puglia ha già impugnato il provvedimento della Giunta Comunale, l'ASL richiesta del parere obbligatorio per legge da questa amministrazione, non ha fornito il parere per chi ha detto, lo abbiamo già dato nel 2012, c'è stato un provvedimento della Regione Puglia, si sono formate le graduatorie, quindi siete fuori tempo massimo, nasce male questa vicenda, rischia di finire ancora peggio. Io ritengo che chi fa politica in maniera seria, in maniera responsabile, in maniera non demagogica e non populista abbia il dovere anche di mettere in guardia chi amministra dal rischio di una valanga di contenziosi che sottopongono e despongono tutti i cittadini francavillesi e tutti i contribuenti francavillesi al rischio di ulteriori danni a carico dell'amministrazione, cioè oltre al danno di non avere o di rischiare di non avere la farmacia nel quartiere San Lorenzo e nel merito vorrei chiarire che io sono assolutamente a favore dell'allocazione di una farmacia in quel popoloso quartiere si potrebbe aggiungere la beffa di esporre questa città a vicende giudiziarie assolutamente inopportune e onerose.